Adesso sentiamo cosa ci dice il giudice e noi in ogni caso abbiamo la nostra linea difensiva, ok? Avvocato, possiamo procedere? Giudice, possiamo procedere, grazie. Quindi lei è re o confesso? No, io sono Michele Lavoppa. Cosa che lei dice Michele Lavoppa? Cioè, lei che... Nel senso che lei confesse di essere colpevole? Confessiamo, confesso, va bene. Lei prima di rapinare la banca ha ucciso cinque persone. Sì, cinque, sì, ma non è che posso stare a ricordare... Quindi avete ferito tre donne, un bambino e una vecchietta. Eh sì, è stato andato a dare ingresso, ha lasciato lo spazio di cui... Poi ha sparato sulle mani del casciere e sulle gengive delle usciere. Sì. Quindi prima di entrare all'altra staforza, l'altra staforza stava 5 milioni di euro. Sì, più o meno... E ne ha rubati solo tre. E come mai ne ha rubati solo tre? Giudice, io sono un buono. Non è che dici che... Da, onesto. A questo punto, giudice, io chiederei l'assoluzione a titolo pieno. Cioè, non è che abbiamo fatto potuto. Alla fine è un buono, voglio dire. Sono più quelli che abbiamo lasciati che quelli che abbiamo preso.